siamo a casa dei signori bianchi la signora bianchi sta in camera con l'amico quando ritorna il marito accidenti svelto nasconditi che mio marito è tornato prima ma dove mi metto sotto il letto no che ci guarda fai finta che sei una statua come si si mettiti sul corridoio in piedi stai fermo fai finta che sei una statua entra il marito e chiede alla moglie con chi sei ma nessuno guarda chi vuoi che ci sia e questa cosa qui quella è una statua dice che ce l'aveva anche la nostra vicina la signora verdi e così anch'io ne ho presa una è la moda del momento così marito e moglie cenano e poi vanno a letto in piena notte però il marito si alza mentre la moglie sta dormendo profondamente va in cucina e prepara un panino ed un bicchiere di vino e li mette sul tavolino dell'ingresso quindi dice alla statua amico ti ho portato qualcosa io sono stato tutta la notte in casa dei verdi a fare la statua e credevo di non farcela dalla fame